Partita lo scorso primo giugno con tante città d'Italia tapezzate da manifestico scritto cercasi schiavo per bar, alberghi e ristoranti, la campagna lanciata dagli attivisti di Slang USB nata per protestare contro gli imprenditori del turismo e della ristorazione che cercano lavoratori da sfruttare sbarca anche a Gela per portare sostegno alla denuncia di Martina Licata, la giovane lavoratrice che ai nostri microfoni denunciò la sua personale storia di sfruttamento. La denuncia che Martina ha portato ai nostri microfoni a proposito allo sfruttamento dei giovani nei lavori stagionali soprattutto nella stagione estiva nel settore della ristorazione ha avuto un enorme riscontro mediatico. Stanno venendo fuori tante storie sommerse e oggi c'è stato anche un sit-in qui a Gela organizzato dalla USB di Catania che ha portato qui in città la loro campagna che si chiama per l'appunto cercasi schiavo. Purtroppo poca, pochissima adesione da parte dei giovani gelesi che hanno preferito la spiaggia alla manifestazione ma l'importante, come si dice in questi casi, è iniziare a denunciare e così è stato stamattina. Come Federazione del Sociale USB che lancia questa campagna cercasi schiavo capiamo benissimo che anche questo di Gela è in modo particolare un territorio dove lo sfruttamento dei giovani in modo particolare durante la stagione, però vorrei sottolineare che purtroppo lo sfruttamento stagionale non riguarda solo i giovani perché se noi andiamo a vedere le aziende, passa a farci un giro nelle spiagge vediamo che c'è tanta gente anche di una certa età che è costretta ancora dopo tanti anni a fare il lavoro stagionale che significa un contratto a tempo determinato, si sa quando inizia e si sa quando finisce, come giornate, però spesso non si sa durante la giornata quante ore esse sia. Proprio negli ultimi mesi i datori di lavoro e persino il Ministro del Turismo hanno lamentato la mancanza di manodopera in questi settori, dando la colpa ora al reddito di cittadinanza, ora alla presunta schizzinosità dei giovani che in questo ambito lavorano migliaia. Invece secondo il sindacato, per rendere dignitoso il lavoro in turismo e ristorazione, serve innanzitutto rinnovare il contratto nazionale del settore scaduto a dicembre. Un contratto che deve mirare essenzialmente anche all'aumento degli stipendi, cioè gli stipendi degli stagionali, quando sono regolari ovviamente, vengono fatti tutti quanti a ribasso. C'è anche tanto sommerso e c'è tanto nero soprattutto? Ovvio, c'è tanto sommerso e c'è tanto nero, infatti la seconda maggioranza, molti di quelli che lavorano nello stagionale lavorano in nero, lavorano in nero, lavorano nel sommerso, lavorano con partite IVA-Fasulle, lavorano con ritenute del conto inesistenti, lavorano anche con, c'è un'altra caratteristica, avere dei contratti part-time, però poi tu lavori 8, 9, 10, 12, 14 ore e poi se arriva un controllo, avendo un contratto part-time, hai almeno da mezz'oretta iniziato a lavorare. Anche questo fa parte di un lavoro schiavista. Tra le poche presenze registrate stamattina, quelle del segretario provinciale del PD, Peppe Di Cristina, di quello locale Guido Siragusa e dei rappresentanti dei giovani democratici che sin dall'inizio hanno sostenuto la denuncia di Martina. Al sit-in naturalmente anche la stessa Martina. Spero che queste persone inizino a raccontare le proprie storie a chi può fare veramente qualcosa per loro, come le forze dell'ordine, come l'ispettorato del lavoro, come i sindacati. dovete denunciare perché venire a raccontare la storia a me o al giornalista ha risonanza, ma non ne ha tanto quanto la denuncia.